è il 29 gennaio 1995 e lo stadio ferraris di genova si prepara ad ospitare la partita di campionato genua milan i precedenti tra le due tifoserie non sono del tutto rassicuranti da anni ormai sono note per la loro rivalità parecchio accesa che diviene infiammata dopo i fatti avvenuti quella maledetta domenica circa un'ora prima del match alcuni tifosi milanisti mettono in atto un piano ben preciso con il solo scopo di fare del male ai tifosi genoani presenti fuori dallo stadio i primi iniziano così ad insultare e provocare gli avversari in modo da attirarli verso di loro ed è qui che si consuma la tragedia scontri ritirate e nuove cariche ma soprattutto coltelli il 19 anni simone barbaglia trafiggia lo stomaco il tifoso genoano vincenzo spagnolo per spagna come veniva chiamato dagli amici quel gesto risulta fatale all'interno dello stadio la situazione è dir poco confusa e frenetica gli ultras genoani cercano in tutti i modi di far sospendere la partita una volta informati arbitro giocatori dirigenti l'incontro viene di fatto rinviato ma è per le strade di genova che si scatena il vero inferno gli ultras genoani sfogano tutta la loro rabbia contro la polizia e diverse auto e targato milano per poi riversarsi in massa sotto il settore ospiti lì riescono a sfondare i cancelli ma non il vetro che li separa dai milanisti fortunatamente evitando un ulteriore scontro con il passare delle ore e l'intervento massivo delle forze dell'ordine gli scontri vengono sedati e marassi può tornare a respirare nonostante i tentativi da parte dei milanisti di depistare le indagini attraverso scambi di cappellini giacche e biglietti del treno barbaglia viene arrestato e successivamente condannato a 14 anni di carcere questa è la testimonianza di un tifoso genoano presenta lo stadio quel 29 gennaio io ero presente lo stadio quel 29 gennaio e ricordo di aver visto nel pre partita insieme ad un gruppo di amici i tifosi milanisti arrivare in massa verso la zona della gradinata nord dove stavano tutti i genoani ne è conseguito uno scontro molto violento in cui ha perso la vita il giovane claudio beh sì le motivazioni sono sicuramente legate a fatti avvenuti nelle partite degli anni precedenti che hanno causato un'accesa rivalità fra le due tifoserie mi sono rimasti impressi in maniera particolare lo stato d'animo e l'atmosfera generale percepiti ingradinata subito dopo i ragazzi del club hanno preso gli idranti e hanno iniziato a bagnare tutti minacciata di fare invasioni di campo nel caso in cui si fosse giocata regolarmente la partita hanno poi parlato con il capitano del geno a torrente e a quel punto anche l'arbitro è stato avvisato e ne ha preso atto rinviando il match ricordo una tensione incredibile ingradinata anche tra gli stessi genoani perché molti non capivano e non sapevano cosa fosse successo poco prima alcuni addirittura invivano contro i ragazzi del club c'era una confusione assurda comunque la partita non è stata giocata e il dopo partita fuori dallo stadio è stato inevitabilmente molto movimentato l'omicidio di vincenzo spagnolo rimane una delle pagine di cronaca nera che ha maggiormente sconvolto il mondo del calcio ancora oggi ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del ragazzo i familiari si recano allo stadio per rendergli omaggio insieme alla gradinata nord che rimarrà per sempre la sua seconda casa